L'evoluzione più drastica che l'umanità abbia conosciuto dall'esordio e quindi io penso che essere consapevoli delle potenzialità enormi che ha la rete per conoscere, per approfondire, per diffondere messaggi positivi, qualunque sia il ruolo che si ha nella società, è un dovere di chi insegna, è un dovere di chi educa ed è un diritto di chi apprende. Certamente c'è una fascia oscura come in tutti i luoghi, internet è un luogo, non è altro che una piazza enorme priva di confini e in questo caso noi dobbiamo dare tutti gli strumenti ai più giovani soprattutto, ma io direi anche agli adulti che usano la rete per capire dove inizia lo spazio buio e dove si deve veramente essere non solo cauti ma anche reagire se c'è un atteggiamento che... sconfina nella violenza, sconfina come nel caso del bullismo, nella vigliaccheria messa a sistema.